salve a tutti buonasera stasera vi preparo la pasta e fagioli del pastore come si diceva una volta in gerda a procurare in questa pentolina qui diciamo in questa pentola per il momento che ho portato un attimo avanti l'aglio l'aglio ho messo a soffriggere l'ho tritato non l'ho messo in camicia perché mi serve un poco di acidità in più per andare a battere un pochettino il dolce del fagiolo e in quest'altra pentola come vedete qua mi sono messo a fare un brodo perché mi vado a fare una pasta risoltata quindi il brodo classico con sedano carota e cipolla per amalgamare man mano che si cuoce la pasta i fagioli questi qua me li sono preparati prima messi in ammollo per 24 ore poi l'ho messo a cuocere quindi il fagiolo è quello secco ma si possono benissimamente usare già quelli che stanno nei barattoli già pronti quattro iniziali a soffriggere l'aglio l'olio e poi dopo ci vado a mettere le stalle degli inglesi qui ci abbiamo un po di potele di maiale che ci andiamo a mettere sotto del peperoncino e del sedano ora prepariamo un attimino siamo a soffriggere l'aglio che già sta soffriggendo dopo di che ci mettiamo questo poco di cutenna cutenna del prosciutto va bene anche la pesca io ho preso un po di cutenna di prosciutto crudo perché non aveva portata di mano la cutenna normale a questo punto ci andiamo a mettere un pochettino di pomodoro all'interno facciamo appassire un pochettino ci mettiamo un pizzicotto di piccante a me certamente come piace una volta che si è appassito il pomodoro a questo punto aveva anche qualche fogliolina di basilico che ci ho messo inizio a metterci i fagioli dentro e mi inizio a amalgamare insieme al pomodoro si dà la base che ho fatto allora nel frattempo ho fatto amalgamare un po il brodo con i fagioli e a questo punto solo provoco per mettere la pasta la pasta stasera ho preferito un tubetto piccolissimo e ce l'ho vado a mettere dentro diciamo che io la faccio una mezza risultata e una mezza in acqua ecco qua questa è la pasta ma adesso un po' alla volta ma di mano, man mano, mi ci vado ad aggiungere l'acqua che mi serve nella pasta, ecco qua, è iniziata la cottura della pasta adesso, poi potete mettere pure l'acqua in una volta, e ci mettete la pasta dentro, a me piace più in poco risultata la pasta, ecco perché me la ho provato a cuocere un pochettino, ecco qua, questa dimensione qua va bene, poi man mano che si asciuga si va ad aggiungere dell'altra acqua, ragazzi a me la piastra piace un po' più alberde, quindi per me a questo punto la pasta già è pronta, eccola qua, salata, e fatto tutto, nel frattempo vi spiego cosa ho fatto per farmi con la composizione del piatto, e per finire, qui io vado ad amalgamare la pasta con un olio all'aglio e con dell'origano, poi ho del persemolo per guarnire il piatto e qui ho fatto delle chips di cotenna, del pecorino già grattugiato e mi vado ad amalgamare il piatto in ultimo, quando il piatto è quasi finito. Adesso spiego un attimo, voglio far sventare in modo per far sì che si attacca un pochettino di più il fagiolo vicino alla pasta, perché a me mi piace che adesso è bella zaccuta la pasta e fa subo, quindi voglio far sventare un pochettino, qua ci ho messo un tubetto piccolino piccolino dentro, poi ci vado ad mettere questo composto qua dentro, che è un olio fatto con un olio all'aglio con origano, e vado ad amalgamare. Possibilmente, quando più freddo possibile, l'olio all'aglio con l'origano dentro, e poi ci vado ad amalgamare una bella manciata di pecorino. Eccoci qua. Ragazzi il piatto è pronto e siamo pronti per impiattare. Questa è la pasta e il fagiolo del pastore. Ecco a voi il piatto. Un saluto a tutti quanti e un bacio a tutti. Grazie 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 a tutti.